Marco Tuminiello, innanzitutto benvenuto, questi primi giorni di ritiro come stanno andando? Intanto grazie mille del benvenuto, questi giorni di ritiro stanno andando molto bene, piano piano mi sto integrando col gruppo e sto avendo delle risposte positive nonostante essendo indietro nella condizione fisica. Ecco, impressioni tu come hai visto in questi anni Pescara? Ho visto una piazza molto bella, molto dedicata ai giovani, molto sotto il punto di vista personale degli attaccanti che segnano molto, quindi sempre una squadra che ha puntato sia sui giovani che sul gruppo quindi penso sia la piazza perfetta. Ecco, parlarci di te, le tue caratteristiche, i tuoi punti di forza quali sono? Allora, i miei punti di forza sono la fisicità e il colpo di testa e stanno in area di rigore posso essere un buon fattore per questa squadra. Ecco, Vivaio giallorosso, siciliano di sangue, appunto verace, può essere Pescara la piazza per una definitiva svolta nella tua carriera? Ma come ho detto prima, secondo me è quella proprio perfetta per rilanciarsi dopo anni di tre infortuni e aver giocato poco, quindi apposto ho fatto questa scelta io con i miei procuratori e con il Presidente e penso di aver fatto la scelta giusta.